Dottor Capone, dal 2014 siete partiti con lo screening della mammella, eravate a zero, siete arrivati al 60% e oltre, un risultato che è andato anche oltre le più rose aspettative. Sì, sicuramente sì, nell'estate del 2014 la Regione ci ha ricordato che bisognava attivare lo screening della mammella che era un LEA, un livello essenziale di assistenza e che noi eravamo carenti in quanto fino all'agosto non avevamo fatto nemmeno una mammografia di screening. Quindi siamo partiti, ci siamo organizzati con una struttura che era inesistente, abbiamo reclutato tutto il personale, medici, infermieri, tecnici di radiologia in tutti e quattro gli ospedali e gli obiettivi erano due, quello di chiamare tutte le donne tra i 50 e i 69 anni quindi inviare una lettera a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, quindi coprire al 100% la chiamata delle donne, è un obiettivo che abbiamo raggiunto, e soprattutto ottenere un'adesione all'attività di screening che almeno raggiungesse il 60%, ma soprattutto abbiamo lavorato sull'informazione delle persone. E abbiamo fatto l'informazione a doppio senso, non abbiamo solo comunicato quello che facevamo, detto quello che facevamo, ma abbiamo anche attivato delle centrali di ascolto. Alle sue spalle c'è una mammografia in questo caso positiva e che ci introduce insomma al tema dei risultati. Tante volte si dice importante la prevenzione e in questo caso lo screening si muove in questo senso. Prevenzione che è importante perché si può cogliere il tumore prima che dia sintomi. Sì, il senso dello screening è proprio questo. Nell'attività di screening si lavora su persone sane, cioè noi chiamiamo le persone sane, perché noi sappiamo che quella malattia colpirà una certa percentuale di queste persone e fare una diagnosi precoce della malattia in modo tale da facilitare il percorso successivo della paziente, rendere più agevole, meno demolitiva la chirurgia, meno impattante l'intervento dell'oncologo successivo con tutti i farmaci che sappiamo che sono abbastanza importanti.